Paprika Como e Alessandro Fonte, in seconda fila 7 player de gloria Giorgio Cassani, 9 per Senzio Vita, Yoshe Sagai, 10 Pavoncello, Paolo Romanelli partiti, la rottura di Pecunias, lo scatto in avanti di Paltrow e Kappa, seguito da Paltrow e Kappa, si propone Paprika Como che però non sembra cattivissima. Ma Sandro Fonte studia un po' i tempi dell'attacco, adesso rimane scoperto perché ha serrato sotto in terza posizione Patos del Ronco, ma forse l'intenzione non era nemmeno quella di parcheggiare in corda. 15-6 la frazione e adesso di colpo Paprika ha avuto un piccolo arresto, ma si ripropone poi invece sul battistrada, Paltrow e Kappa evidentemente a questo punto corre davanti, una deduzione logica dopo il 16-2 di frazione, il gruppo molto molto raccolto, si va pianissimo in fondo al drappello, sembrava propenso a venire di fuori Paolo Romanelli con Pavoncello, tenta una terza ruota di Pensa. 16-2 la frazione, Paltrow e Kappa accompagnato alle tribune da Paprika dei Greppi e poi lo scatto in terza ruota di Pavoncello che arriva di sorpresa sui primi, frazione in 15-4, Paprika è passata a condurre, c'è l'errore di Paltrow e Kappa, l'attacco di Pavoncello, sbaglia anche Pavoncello, ha avuto problemi nella scea di Paltrow anche, please please me, così si propone di fuori i pesi. Numero 10 Pavoncello, squalificato. Scappa a traguardo lontano ma ovviamente ha aperto i rubinetti e non può fare diversamente Alessandro Fonte con la favorita, vanno all'inseguimento President Real e Persenzio Vita, frazione in 15 secco, ha detto basta invece please please me, che probabilmente era stata contrariata dall'errore di quella che la precedeva la curva precedente, siamo addirittura con Paprika Como nettamente davanti, 15-3 la frazione, Persenzio Vita che va a cercare il secondo posto e probabilmente sul palo lo trova ai danni di President Real. 6-95 l'arrivo, 1-17-1, l'arrivo numerico ovviamente, 1-17-1 la media della vincitrice al chilometro, Paprika Como con Alessandro Fonte da catch driver per le colline moreniche e training di Fabrizio Asperti. Attenzione, ordine d'arrivo all'esame della giuria.